buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la segna stampa di oggi martedì 3 novembre beh sui giornali oggi ci sono titoli diversificati anche perché alcuni sono riusciti a mettere in prima pagina l'attentato di vienna altri evidentemente no e quindi questo condiziona molto le prime pagine giornali per esempio il corre della sera mette la fotografia dei poliziotti delle guardie speciali delle parti speciali di vienna con i fucili puntati vi dicendo terrore a vienna morti e feriti attacco in sei punti in realtà vedete che i giornali non hanno ancora il bilancio diciamo dell'attacco terroristico che poi sappiamo essere tre morti e 15 feriti e repubblica anche lo mette in prima pagina la foto è la stessa attacco terroristico al cuore dell'europa e il il la stampa che apre però sul invece il coprifuoco in italia il coprifuoco spacca l'italia in tre ma poi mette anche essa la foto con i reparti speciali austriaci notte di sangue a vienna terroristi nel cuore della città almeno due morti e 15 feriti invece il giornale in prima pagina lockdown da pazzi questo è il titolo del giornale e il domani arriva il lockdown automatico che nessuno osa proclamare questo su sui giornali che per esempio non hanno la notizia di vienna così come il tempo ma il tempo dedica la prima per l'apertura di prima pagina a proietti terenni conto sì che ci hai combinato e ancora libero riferito a conte che parla alla camera e al senato ho fatto tutto bene ma ci tocca soffrire e se volete poi il messaggero invece anzi invece anch'esso con gg proietti il messaggero dedica sette pagine dopo la prima a proietti l'ultimo mattatore e qui c'è un piccolino messo all'ultimo momento la notizia dell'attacco a vienna è terrorismo morti e feriti come al bataclan vedremo che su tutti i giornali e che sono riusciti a riportare la notizia l'accostamento il paragone con il bataclan è assolutamente comune e il titolo dell'avvenire è un titolo originale come spesso capita all'avvenire chiusure a soffietto e poi il invece il sole 24 ore parla del dello sblocca debiti della pubblica amministrazione che ha fatto flop così il sole 24 ore ma io direi di partire subito con vienna non c'è moltissimo perché ovviamente le notizie sono arrivate più nel cuore della notte però pagine successive alla prima per repubblica terrore a vienna spari e morte nei locali del centro e tonia mastro buoni che la corrispondente assalto nell'ultima sera prima del lockdown colpi alla sinagoga poi in diversi punti della città in azione un commando con armi pesanti diverse le vittime l'esercito fa partire la caccia all'uomo e qui c'è gabella colarusso che fa un articolo riportando le testimonianze di chi era lì presente ci puntavano siamo scappati da sotto i tavolini dice pochi minuti una sequenza di colpi poi l'immagine delle forze speciali che gridano ai passanti di scappare andate via dal primo distretto l'orrore che si ripete come a parigi come a nizza vienna presa d'assalto da un commando terrorista stavamo lavorando abbiamo sentito dei rumori forti tutti hanno iniziato a correre abbiamo sentito di nuovo degli spari poi arrivato un poliziotto ci ha detto di uscire abbiamo visto la polizia puntare le armi contro le persone racconta al curer anna gansega che ieri sera era in un locale del centro cittadino quando intorno all'evento un gruppo di almeno due attentatori ha iniziato a sparare in diversi punti della zona miravano a chiunque capitasse il loro sottotiro cercavano la strage il maggior numero possibile di morti poi se andiamo a pagina 4 il gianluca di feo scrive come al bataclan un attacco multiplo nel cuore dell'europa uomini in tenuta militare con i caricatori di riserva alla cintura e un berretto nero impugnavano il kalashnikov con perizia alternando colpi singoli a raffiche si muovono come se avessero l'esperienza dei combattimenti nelle strade è questo il volto del terrore che ha insanguinato il centro di vienna la nuova tappa di un'offensiva contro il cuore dell'europa che non conosce tregua le dinamiche dell'attacco ricordano ricordano i momenti più cupi della storia recente come nella notte del bataclan il comando ha agito in maniera sincronizzata facendo fuoco tra la gente ai tavolini di un locale prendendo stagi in un ristorante seminando ordigni prima ancora era accaduto in india nel 2008 con dieci diversi gruppi d'assalto impegnati a devastare agli hotel di mumbai e ieri a vienna come nella strage di charlie ebdo e terroristi non si sono intimoriti all'arrivo della polizia l'hanno affrontata d'armi spianate proseguendo il loro piano perseguendo il loro piano feroce così sulla repubblica vedete che anche il correre della sera e poi però direi che possiamo chiudere con questo capitolo perché vedrete come venti cose ce le avremo domani il correre della sera non mette la scelta di non mettere la notizia nelle pagine su seguente la prima ma si va a pagina 13 e il titolo di pagina 12 è spari e sangue vicino alla sinagoga vienna colpita da un attacco multiplo due vittime un passante un attentatore 15 feriti tra questi un poliziotto caccia al commando e poi presente passato è paolo solomon che scrive sul correre della sera la paura nei vicoli dove passeggiava freud e poi c'è guido olimpio che parla dallo scenario dai luoghi di culto ai bar il fronte del terrore nel cuore delle nostre città missioni organizzate e sacrificali spesso davanti alle telecamere e dice olimpio è il fronte delle città con le strade tramutate in campo di battaglia da estremisti e da persone che limitano ma che limitano ma conducono guerre personali il fine è sempre lo stesso fare molte vittime portare il terrore dimostrare che nessuno è al sicuro così il correre della sera questo per quanto riguarda l'attentato di vienna ma veniamo invece alle cose di casa nostra intanto qual è il quadro del dei numeri ieri numeri ovviamente sono più bassi perché la domenica si fanno meno tamponi e quindi ci dice il correre della sera con mario in agli ossa calano i contagi ma con meno test morti in ogni regione il numero sale a 233 l'indice di positività stabile al 16 per cento in lombardia 200.000 casi dall'inizio dell'epidemia e qui diciamo per l'appunto si fa il diciamo si mette in evidenza che l'indice di positività è stabile al 16 per cento quindi è vero che si sono fatti meno tamponi e che quindi ci sono meno contagi ma a differenza di quello che mi pare in altri giorni il rapporto tra tamponi e contagi rimane uguale e non cresce a diminuire dei tamponi ma per quanto riguarda i dati voglio segnalarvi anche la stampa pagina 10 che fa riferimento alla divisione per proprio per zone e dice le province più colpite sono tutte nel nord ovest corsa ai nuovi posti letto record ad aosta poi monza e milano male anche genova a torino allestito un ospedale covide al parco del valentino e vedremo che queste zone sono quelle che sono più a rischio di lockdown ma lo vedremo adesso con gli scenari perché proprio dal correre della sera se andiamo nelle pagine successive alla prima ecco il titolo è via al coprifuoco lombardia e piemonte rischio lockdown il nuovo dpcm sarà firmato tra oggi e domani il paese è diviso in tre più rigore dappertutto ma possibili altri due livelli nelle singole regioni e dice speranza vuole subito le zone rosse ma i governatori protestano anche la liguria potrebbe avere limiti rafforzati toti dice siamo borderline e allora che cosa accadrà e qui di nuovo c'è un diciamo un piano lo stop ai movimenti bloccati a casa la sera dalle 20 le 21 le 22 queste sono le tre ipotesi del live del quadro nazionale poi per quanto riguarda i trasporti la capienza sui mezzi scende al 50 per cento e qui va detto che diciamo il tema qual è è che siccome la gente deve andare a lavorare perché a prescindere quelli che sono non vanno a scuola ma comunque noi invece che aumentare i posti sul sui mezzi di trasporto e cioè invece che aumentare i mezzi di trasporto in maniera che le stesse persone possono stare con una presenza inferiore al 50 per cento nei mezzi noi diminuiamo la capienza nei mezzi e quindi poi sarebbe interessante sapere tutta quella gente deve andare a lavorare se non può stare nei mezzi come ci va no vabbè bar e centri commerciali limiti nel weekend per cibo e shopping per quanto riguarda l'istruzione didattica a distanza per le superiori e per quanto riguarda i viaggi mobilità blindata nelle aree colpite e cioè entrerà in vigore divieto di spostamento da e per le regioni che hanno un livello di rischio elevato e poi ancora la cultura il divieto si allarga a musei e mostre e poi per quanto riguarda le regioni a livello 3 solo spostamenti giustificati scuole e università saranno chiuse quando una regione o una provincia entrano nella fascia di rischio più alta scattano in automatico le massime restrizioni previste dal dpcm misure pesanti a cominciare dalla chiusura di scuole e università il lockdown dovrebbe durare tra le due e le tre settimane il tempo di raffreddare la curva epidemiologica si potrà uscire soltanto per lavoro motivi di salute e di urgenza per muoversi bisognerà avere il modulo di autocertificazione che dovrà giustificare il motivo dello spostamento e invece per quanto riguarda la regione a livello 2 negozi aperti blocco per i ristoranti lezione online dalla seconda media dice nelle regioni che si trovano nel livello intermedio di rischio saranno chiusi bar e ristoranti per tutta la giornata i negozi potranno rimanere aperti così come parrucchieri barbieri e centri estetici i cittadini non avranno limitazioni negli spostamenti se non quello di rispettare il coprifuoco nazionale la scuola elementare la prima media non chiuderanno ma per le classi successive sarà prevista la didattica a distanza e rimane la possibilità per i governatori e sindaci di manare ordinanze più ristruttive ma questo lo abbiamo già visto e sempre per quanto riguarda gli scenari a pagina 7 a proposito diciamo di come si stabiliscono poi queste chiusure il Corriere della Sera con Valentina Santarpia scusate con Alessandro Trocino dice così si decidono le chiusure e cioè dice saranno determinanti la soglia dell'RT e il numero dei posti letto occupati negli ospedali e a proposito delle zone a rischio qui si mette la Lombardia dice le 5 regioni che potrebbe entrare in livello più alto di rischio con la possibilità di essere oggetto di ordinanze restrittive da parte del ministro della salute in base all'indice RT superiore a 1,5 e tenendo conto degli altri 20 parametri considerati dal comitato tecnico scientifico tra i quali le terapie intensive i posti letto disponibili e i test effettuati e qui ci sta il tema della Lombardia il Piemonte la Liguria la Calabria e la Puglia questo è quello che ci dice il Corriere della Sera proseguiamo perché anche come è del tutto evidente gli altri giornali vediamo per esempio la Repubblica è inutile che li guardiamo tutti perché poi le notizie sono tendenzialmente le stesse ma la Repubblica in particolare ci spiega cosa sono le zone ed è Michele Bocce a pagina 7 lombardia Piemonte Calabria verso il lockdown leggero come sarà l'ipotesi al vaglio prevede cinque regioni in zona rossa ci sono anche Alto Alige e Val d'Aosta e tre in quella arancione Puglia Liguria Campania per tutte le altre valgono le misure nazionali ma sono in bilico anche Veneto e Sicilia quindi la zona rossa sarebbe quella con le aperte solo le industrie e le scuole fino alla prima media ci sarà la didattica a distanza dalla seconda media ci sarà lo stop alle attività commerciali non essenziali le attività industriali il piano del governo è mantenere aperte queste attività e poi gli spostamenti come abbiamo visto solo con l'autocertificazione poi c'è la zona arancione serrata per bar e ristoranti poi valgono le regole generali dice i locali restano chiusi la differenza principale rispetto alle regioni interessate dalle misure generali valide per chi rischia di meno sarebbe la chiusura di bar e ristoranti saracinesca abbastate per tutto il giorno e dunque non solo dopo le 18 come nel resto delle regioni verdi e quindi anche durante il weekend resta ovviamente possibile la consegna a domicilio e dice che però anche in questo caso rimangono salvi parrucchieri e centri estetici e poi valgono tutte le altre misure la zona verde sono quelle diciamo che stanno messe meglio meno shopping nel weekend musei chiusi trasporti più vuoti i centri commerciali chiusi nel weekend stop allo shopping e centri commerciali alla fine della settimana è previsto come misura minima in tutte le regioni quindi la zona verde riguarda tutte le regioni ad eccezione di quelle che non finiranno in zona arancione o in zona rossa quindi riguarda tutta italia sostanzialmente tutti a casa dalle 21 da un lungo braccio di ferro sugli orari dovrebbe uscire una mediazione che fissa alle 21 di sera il divento di uscire di casa per gli italiani salvo ovviamente motivi di salute di lavoro per quanto riguarda la scuola la didattica a distanza sarà attiva al 100 per cento nelle scuole superiori perché la circolazione del virus è molto maggiore tra i ragazzi che hanno dai 14 ai 19 anni rispetto ai più piccoli sul trasporto dice si torna al 50 per cento su bus metro e treni regionali come aveva chiesto il comitato tecnico scientifico quest'estate i trasporti sono considerati luogo a rischio adesso scopriamo che i trasporti sono considerati luogo al rischio però abbiamo chiuso le palestre le piscine vabbè si fermano anche i musei e va bene questo l'abbiamo visto questo da repubblica a pagina 7 ora questi sono giornali che danno più informazione ovviamente ci sono poi giornali che criticano queste misure tant'è che il giornale prima pagina scrive appunto lockdown da pazzi ci chiudono in casa ma arriva il bonus bicicletta ipm ordino arrestate solo se necessario questo lo vedremo un po dopo nella parte che riguarda il capitolo giustizia ma a pagina 2 il giornale la mette così la stretta in arrivo oggi il nuovo dpcm coprifuoco alle 21 e stop spostamenti bus e metro al 50 per cento tra le misure che dovrebbero essere previste la chiusura dei centri commerciali e questo l'abbiamo visto e poi anche qui si parla dei tre colori a seconda del rischio sulle regole e tutti contro tutti dice in base ai parametri dell'istituto superiore di sanità saranno stabiliti lockdown locali regioni divise il pd attacca conte un caos e poi augusto minzolini che firma un retroscena in prima pagina così prosegue poi nelle pagine 2 e 3 a forza di cercare alibi salta la catena di comando il premier travicello tentenna scarica la responsabilità e nessuno paga gli errori e vedremo tra poco anche il tema dei rapporti tra il governo e le regioni all'interno della maggioranza tra governo e opposizione insomma ce n'è un po di tutti i tipi e visto il giornale e scusate devo solo controllare che mi era segnato anche assi perché il giornale la pagina 6 parlando del del virus a proposito dei scenari ci dice che il covi mutato in estate ora è più contagioso idea lockdown o lockdown periodici lo conferma la conferma degli studi il virus più pervasivo gli esperti dicono chiudere una settimana al mese quindi nello scenario c'è anche l'ipotesi dovendo convivere col virus che queste chiusure a singhiozzo a soffietto come dice l'avvenire e poi sono chiusure che ci porteremo appresso presumibilmente fino a che non ci sarà il vaccino ma ci sarà il vaccino per tutti e in forma ordinaria diciamo il domani in prima pagina la bette così come abbiamo visto arriva lo da un automatico che nessuno sa proclamare governo e regioni trovano un accordo per evitare il costo politico delle decisioni impopolari le chiusure scattano sulla base di virgolette dati oggettivi gli elettori non sapranno con chi protestare e questo è il tema ritorniamo a uno dei temi ma vedremo che poi si sarà anche quello dei dati e perché appunto qui torniamo al solito discorso sì il ragionamento è noi abbiamo i dati vi diciamo che sono drammatici e voi vi dovete fidare e che non dovrebbe funzionare esattamente così cioè fateci sapere quali sono queste evidenze scientifiche allora andiamo sulla pagina 12 di repubblica con titolo boeri e roberto perotti che dicono questo il titolo è dagli asintomatici all'indice di contagio i cinque errori da non commettere l' rt non è sufficiente serve la percentuale di positivi nelle città e nei territori regionali un'indagine ora possibile grazie ai tamponi rapidi e scrivono tra l'altro ovviamente un'intera pagina non posso leggerla tutta dice ma senza voler entrare in campi che non conosciamo da economisti con qualche rudimento di statistica ci permettiamo di segnalare cinque errore frequente di interpretazione dei dati sul covid che possono indurre scelte sbagliate intanto all'indice rt i provvedimenti sulle chiusure vengono presi soprattutto sulla base dell'indice rt questo ci dice quante persone infette in media un contagiato e la sua stima richiede tantissime ipotesi tutte arbitrarie e poi si parla del pericolo negli asintomatici e poi si parla del problema della informa delle informazioni disponibili dice ci sono molti altri dati importanti che non vengono raccolti e non vengono disseminati come dovrebbero particolarmente importanti per i decisori e per il pubblico oggi così disorientato sarebbero dati che consentano un'analisi anche approssimativa della pericolosità di palestre bar ristoranti cinema teatri scuole per fare un solo esempio i lavoratori del teatro della lirica sostengono che con il distanziamento sociale le loro attività sono molto sicure lo studio spagnolo pubblicato sul sito repubblica sembra suggerire il contrario lo stesso studio su un'aula scolastica anche aerea va bene con aria con un insegnante positivo che parla con mascherina non è completamente rassicurato insomma ci sono questi capitoli la comunicazione la comorbidità insomma così è repubblica che ci spiega con boeri e però il tema dell'utilizzo dei dati e dei numeri che poi appunto devono diventare dati evidenze scientifiche studi e via dicendo e a pagina 13 della repubblica si parla anche relazione alle scuole per le scuole riaperte 30 milioni di contatti l'ondata di ottobre spiegata dai numeri ecco qui almeno dovremmo avere dei numeri roberto battiston su repubblica bene ma andiamo avanti perché ci sono molte cose abbiamo visto le evidenze scientifiche ci stanno poi come di consueto gli esperti nella fattispecie è crisanti che continua a farla da padrone sui giornali oggi sulla stampa intervistato da francesco rigatelli che dice attenzioni perché le regioni potrebbero truccare i numeri il virologo dpm confuso non chiarisce quando scattano le chiusure non vorrei che inducesse qualcuno a non essere trasparenti su dati per evitare il lockdown ecco ci abbiamo anche il dubbio che le regioni taroccano i dati crisanti dice questo c'è tutto il tema del vaccino l'ha sentito conte ci ha detto che il vaccino arriverà a già fine anno e che quindi c'è speranza eccetera eccetera in realtà speranza c'è ma è il ministro della salute per il resto il vaccino seppure dovesse arrivare diciamo poi dovrà essere distribuito bisognerà scegliere le priorità e il problema ce lo pone la stampa pagina 12 con ilario lombardo e luca monticelli vaccini in arrivo ma non c'è il piano per distribuirlo disponibili da dicembre 3 milioni di dose e l'italia rischia di non essere pronta mancano ancora le procedure operative dalla catena del freddo ai dalla catena del freddo ai trasporti dice prima che scrivono lombardo e monticelli prima che le fiale anti covid siano disponibili nelle asle nelle farmacie negli studi dei medici di base c'è tutta una filiera da costruire bisogna dotare gli aeroporti di celle figorifere e snellire le procedure burocratiche doganali non basta dire che a dicembre arriveranno in italia i primi 3 milioni di dosi del vaccino per iniziare davvero a immunizzare dal coronavirus le persone nell'rsa le forze dell'ordine il personale sanitario la germania e il belgio stanno già studiando un piano per velocizzare la spedizione e individuare grandi strutture dove vaccinare milioni di persone in brevissimo tempo noi no manca un mese il governo rischia ancora una volta di farsi trovare impreparato e questo è quello che ci dice la stampa a proposito dei vaccini perché poi appunto si fanno speranze si fa appunto credere che è tutto facile in realtà anche su questo bisogna attrezzarsi e da quant'è che sappiamo che questo vaccino dovrebbe arrivare e poi dovremmo scegliere come distribuirlo e pericendo ma insomma a proposito del vaccino il giornale a pagina 12 ci dice vaccino astrazeneca corre le prime dosi a fine anno di lorenzo il numero uno di rbm di promesse dice aspettiamo il via libera da marzo per tutti anche in questo caso tra l'altro su tutti i giornali si dà la notizia che anche totti e ilary sono contagiati ricordo che totti aveva perso il papà poco tempo fa e ilary asintomatica e invece totti con qualche malessere ma andiamo a vedere a proposito di vaccino e così chiudiamo anche il capitolo vaccini il messaggero a pagina 14 che ci dice che il vaccino costerà due euro e sarà in vendita a marzo ecco qua vedete che già ci spostiamo su marzo l'annuncio di astrazeneca pronte a gennaio oltre tre miliardi di dosi dopo 28 giorni servirà una seconda somministrazione priorità agli anziani questo ci dice il messaggero ma ci sarà tempo vedrete che ne avremo ancora di notizie per quanto riguarda il vaccino ora vediamo alcuni settori particolari e in particolare c'è il tema della scuola che continua a far discutere anche perché come sapete in tutti gli altri paesi europei dove pure si è proceduto con chiusure più restrittive rispetto alle nostre la scuola è stata preservata sia in francia sia in germania sia in inghilterra e vediamo allora pagina 8 il corriere della sera abbiamo gianna fregonara dai presidi ai professori l'amarezza e i timori per i ragazzi chiudere è soltanto un danno gli istituti riorganizzano orarie didattiche a distanza il vero rischio è quello di non riaprire più questo ci dice il corriere della sera come sapete il messaggero è sempre molto sensibile attento ai temi della scuola ai problemi della scuola così è anche oggi e lo fa a pagina 12 ci arriviamo subito vi chiedo scusa spero di arrivarci subito eccolo qua e il titolo è licei solo lezioni da casa il cts anche alle elementari i presidi preparano la dad per i ragazzi la didattica a distanza per i ragazzi didattica di 50 minuti 10 saranno di pausa la resistenza di la resistenza di azzolina da remoto esclusivamente nelle zone rosse e si tratta questo è quello che dice il messaggero che poi tra le altre diciamo criticità prevede quella dei trasporti posti tagliati fino al 50 per cento ma c'è il nodo dei controlli su autobus e metropolitane e sì perché poi appunto c'è anche il tema che la gente siccome a lavorare e spostarsi deve farlo bisognerebbe spiegare se non si aumentano i mezzi come fanno coloro che non possono salire sui mezzi di trasporto e a proposito di scuola anche l'avvenire sapete è attento ai temi della scuola e oggi a pagina 7 ci dice sostanzialmente si evidenzia quelle che sono le scelte del governo alle superiori solo didattica a distanza stop anche a seconda e terza media il governo si appresta a varare il ritorno della dad sostanzialmente al cento per cento e sostinta del comitato tecnico scientifico e andiamo adesso a parlare invece del tema che riguarda i medici gli ospedali insomma problemi di varia natura che riguardano l'organizzazione del sistema sanitario nazionale e allora innanzitutto il correre della sera pagina 9 ci parla dei medici medici di base divisi sui tamponi cricelli del simg dice nessuno può tirarsi indietro mentre rossi dell'ordine di milano dice è rischioso e manca il tempo e poi c'è la lettera del luca musso che che è un dottore dice fare test rapidi in ambulatorio non è il nostro ruolo lasciateci assistere i pazienti e filtrare i recovery in ospedale e qui come vedete anche su questa decisione di coinvolgere i medici di base ci sta dibattito e anche diciamo all'interno della categoria lo vediamo comunque sulla repubblica pagina 15 il tema è ripreso con giampiero visetti e si fa riferimento a quello che accade a piacenza il metodo il medico porta a porta curare il covi da casa salva malati ospedali in giro con l'oncologo cavanna definito da time un erole della pandemia ogni giorno fa visita ai contagiati è il solo modo per evitare il disastro un'intera pagina sulla repubblica pagina 15 a proposito dell'assistenza domiciliare che come ci siamo sempre detti e come si è sempre detto salvo il fatto che poi non lo si è organizzato e diciamo è l'alternativa vera a evitare l'intasamento degli ospedali e dei pronto soccorsi anche il tempo pagina 7 si fa riferimento sul tempo a pagina 7 invece alla questione ospedali in corsia e allarme farmaci gli ospedali potrebbero ritrovarsi presto senza medicinali per terapie intensive reparti covid le industrie scrivono al ministro della salute speranza e all'aifa le regioni non ci hanno ancora indicato i loro fabbisogni ma hanno il fondato e qui vedete sul tema della sanità essendo una materia come si dice a metà tra il governo e le regioni c'è il tema che riguarda per esempio l'approvvigionamento che dovrebbe dipendere dalle regioni e non dal governo ma a proposito di ospedali voglio segnalarvi sulla pagina 7 del sole 24 ore ricoveri a 20.000 ospedali in crisi caccia ai covid hotel l'allarme dice pressioni massima nei reparti dei pazienti meno gravi servono strutture alternative e i medici chiedono più cure a casa a milano due alberghi per isolare gli asintomatici in quarantena questo è a proposito del capitolo emergenza sanità quello che ci dice il sole 24 ore segnala ancora che oltre al problema dei medici degli ospedali c'è anche il problema di chi altro oltre ai pazienti sta negli ospedali cioè sono gli infermieri e in questo in questo caso è libero a pagina 5 che ci dice infermieri inferociti ne servono 50.000 ma ne state licenziavano le assunzioni per far fronte alla prima ondata non sono state rinnovate e ora emergenza ieri sciopero della categoria bene spostiamoci su un altro tema che lo dico a passante è quello dei negazionisti perché il correda sera pubblica a pagina 11 un'intera pagina firma di Ilaria Capua il gioco rischioso dei negazionisti ci coinvolge tutti dice la capua la folla senza mascherine vedremo gli effetti di tutto ciò e sarà troppo tardi questo Ilaria Capua perché è interessato perché non c'è dubbio che in tutto questo anche crescere dei contagi una parte di responsabilità ce l'hanno anche i negazionisti coloro che per l'appunto non ritengono necessaria neanche la mascherina ma passiamo ora a un tema più caldo che è quello dei rapporti tra governo maggioranza e le decisioni che ha preso Conte in questo senso troviamo innanzitutto sul Corriere della Sera a pagina 5 Marco Galluzzo che dice Mattarella testesse la tela del dialogo Conte tregua con l'opposizione il presidente chiama Bonaccini e Toti oggi vede Casellati e Fico il sia la mozione del centrodestra e parte la verifica di maggioranza questo è quello che ci dice il Corriere della Sera che sintetizza così la giornata politica di ieri ma Repubblica dedica due pagine a questo sono la pagina 8 e la pagina 9 a pagina 8 si parla di Conte la sfida di Conte due settimane per convincere tutti Annalisa Cuzzocrea che scrive sulla Repubblica non c'è urgenza nella voce di Giuseppe Conte non c'è pathos nel tono con cui il premier annuncia alla camera prima e al senato poi le nuove misure restrittive che saranno parate oggi per contrastare l'epidemia del Covid-19 il presidente del consiglio legge numeri preoccupanti dell'ultima settimana ma si rifiuta di vestire i panni dell'emergenza come se ci fosse da gestire un semplice aggravamento della curva non un'impennata anche il passaggio in cui avrà l'opposizione l'invito a un tavolo di confronto con il governo tenuto aperto in caso ci fossero ripensamenti sembra fatto per venire incontro alle preoccupazioni del PD e del Quirinale che per creare convinzione. Conte pensa che l'unico partito sulla cui responsabilità si possa contare è Forza Italia con la quale mantiene un canale aperto per il resto vede nel centrodestra il gioco delle parti di chi aspetta solo un suo passo falso per poterne approfittare. Quanto al PD ha notato la freddezza di una parte dei parlamentari demmi in un'aula alla camera alcuni di loro non hanno partecipato neanche agli applausi di rito subito prima e subito dopo c'è stato un lungo braccio di ferro che ha visto il premier dalla parte opposta a quella del capodelegazione del partito democratico Dario Franceschini e il responsabile degli affari regionali Francesco Boccia a quello della salute Roberto Speranza con gli ultimi tre che cercavano di imporre misure più restrittive a livello nazionale a partire dal coprifuoco alle 18 e il capo di governo che usando anche la posizione contraria di Italia Viva resisteva fino a portarlo alle 21. Così la sintesi che fa la Cusso Crea sulla Repubblica a proposito dei rapporti tra Conte e la maggioranza e poi anche qui si fa riferimento al Presidente della Repubblica, Mattarella ancora in campo, frena la lite governo regioni e come sapete oggi vedrà come avete ascoltato anche i Presidenti di Camera e Senato. Anche la stampa a pagina 4 si occupa delle questioni interne al governo che però ovviamente non è pagina 4 e quindi chissà quale pagina sarà eccola qua, pagina 6, Mattarella e governatori il dialogo sia costruttivo, le istituzioni collaborino e poi andiamo ancora a vedere come la mettono i giornali che sono più lontani, distanti dal governo è il tempo a pagina 5 che dice elemosina al centro-destra, il governo accetta 4 proposte su 22 presentate da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per contrastare la pandemia sia a termoscarna nelle scuole, no a risarcimento maggiori e più veloci per le categorie più colpite dalla crisi, questo a proposito delle aperture che ci sarebbero state da parte di Conte, ma se volete sapere, l'avete già visto nel titolo di Libero, Conte lo mette così, ho fatto tutto bene, ma ci tocca soffrire, Conte è specialista in furbata, il capo del governo elenca presunti successi per introdurre nuovi divieti, per le chiusure impopolari scarica invece è la patata bollente sulle regioni e poi appunto dice il centro-destra, non ci sta e presenta un contropiano, ma questo lo vedremo veramente a breve, perché adesso vorrei segnalarvi alcuni editoriali sulla politica nei rapporti all'interno della maggioranza, insomma gli scenari, un po' di tutto, innanzitutto segnalo Mario Monti sul Corriere della Sera a pagina 26 che si occupa esattamente della cosiddetta unità nazionale, l'unità nazionale è possibile di fronte all'emergenza, è un lungo articolo che si conclude sostanzialmente con questo testo, ma l'unità nazionale oggi è indispensabile, oggi è possibile, a mio parere è possibile, dice Monti, una forma leggera di unità nazionale che a ben vedere è anche l'unica richiesta della situazione attuale, in questo momento sono frustrati sia il Parlamento, sia le opposizioni, la loro frustrazione è giustificata perché nell'uno o nell'altra, anche se volessero, avrebbero la possibilità di dare contributi propositivi, hanno sì e no il diritto di mugugno che lo ius murmurandi sia esercitato nelle lauree parlamentari o sulle piazze, esso riduce la credibilità del governo e accresce la rabbia nel paese, in questi giorni le opposizioni hanno dato segnali di disponibilità e di dialogo, anche in questa occasione il maggior senso di responsabilità è venuto da Silvio Berlusconi, i suoi voti sono disponibili per aiutare l'Italia, ha detto non certo per aiutare il governo, ma questo è sufficiente, Giorgia Meloni e perfino Matteo Salvini hanno dato qualche segno di disponibilità, sarebbe un grave errore se il governo non raccogliesse questi segni in modo sostanziale e non ha nulla da temere, se tutti noi saremo presto lockdown il presidente Conte nel bene e nel male è locked in, nessuno gli toglierà quella poltrona, elezioni o anche solo una crisi di governo per cambiare rapidamente il capo non sono verosimili per ragioni ben note e poi a quale scopo? Io per esempio non vedo nessun politico o tecnico disponibile o meno che sia chiaramente più adatto di Conte a gestire questa crisi, non vedo la necessità di creare un nuovo organo, una cabina di regia, una commissione bicamerale come luogo istituzionale in cui cercare di forgiare un minimo di unità nazionale. Dunque non c'è da cambiare il direttore d'orchestra, non ci sono da introdurre nuovi strumenti, c'è solo da modificare lo spartito, così Monti sul Corriere della Sera. C'è poi sempre sul Corriere della Sera a proposito del rapporto tra il governo e le regioni e sempre nella pagina. 26 Massimo Franco, i giochini pericolosi della politica, scrive tra l'altro Franco, probabilmente è vero che gli enti locali in prevalenza guida leghista o comunque di centrodressa aspettano soltanto di puntare il dito contro l'esecutivo e che in Parlamento le richieste di dialogo sono strumentali, si è visto anche ieri, ma tutto questo non può diventare un alibi per non provare ad aprire realmente, seriamente un confronto. Il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste da due giorni su unità non di facciata. È emblematico il suo colloquio di ieri con due governatori, uno di sinistra Stefano Buonaccini delle Miele Romagna, l'altro di destra Giovanni Totti della Liguria. Serve a dare un segnale, se non altro di metodo, a chi si fa scudo dello scontro per non decidere e a chi evoca l'autonomia delle regioni o il primato dello Stato solo quando sembrano un presagio di disastri. Il governo ha il dovere di prendere in mano la situazione, di indicare le priorità, di ottenere il consenso di tutti oppure di spiegare perché va avanti comunque. Per contrastare il Covid-19 non si deve temere l'impopolarità nel senso migliore del termine, spiegare e far comprendere all'opinione pubblica anche quello che non vuole sentirsi dire. Dovrebbe essere facile se il riflesso dell'autodifesa furba cedesse il passo ad un autentico spirito di collaborazione. La difficoltà maggiore nasce da una diffidenza reciproca così radicata da cristallizzare i confitti mentre peggiorano condizioni economiche, rapporti sociali e contagi e mentre la babbella dei suggerimenti prodotti dai virologi aumenta l'incertezza. È indubbio che l'Italia condivide con il resto dell'Europa un rimbalzo dei contagi tale da mettere in mora intere classi dirigenti. Di nuovo però attenti a non utilizzare l'omologazione come salvacondotto. Bisogna chiedersi come mai in pochi mesi il modello italiano così celebrato e autocelebrato sia diventato un deprimente malcomune e mezzo gaudi europeo e soprattutto è urgente rimediare prima che il nostro paese diventi una pietra di paragone in negativo. Fino a qualche settimana fa i cantori del grillismo di governo in sintonia con chi dall'opposizione minimizzava i rischi tirolizzavano su chi temeva protesta e scontento. Forse è il caso che tutti smettano di irridere e bastonare i critici e si facciano un rapido esame di coscienza agendo di conseguenza così franco sul Corriere della Sera ma anche su Repubblica sono da segnalare degli articoli a pagina 23 c'è innanzitutto Folli che nel suo punto scusate a pagina 33 non 23 che nel suo punto la mette così il doppio passo del Quirinale dice tra l'altro Folli ma il deficit di autorevolezza è emerso nella vorticosa girandola dei dpcm e nella partita a scacchi con i poteri locali sempre con un occhio ai sondaggi tanto che oggi il più prudente sul confinamento è il Presidente del Consiglio. Il paradosso è che le due Camere hanno ascoltato un discorso in parte ancora privo di informazioni cruciali, indizio di aspetti non definiti a poche ore dall'approvazione del nuovo decreto. Per singolare coincidenza nelle stesse ore Angela Merkel si rivolgeva a Tedeschi con parole chiare e severe consapevole dei suoi doveri di cancelliere federale dove si dimostra che le misure contro il Covid per quanto drastiche sono tanto più accettabili dall'opera Repubblica quanto più credibili sono le personalità che le annuncia. Da noi invece lo sfilacciarsi dei rapporti dentro la coalizione e l'incomunicabilità tra maggioranza e opposizione hanno ridotto il Presidente della Repubblica a rinnovare la sua esortazione alla concordia. È un passo morale, un invito pressante rivolto stavolta ai leader di alcune regioni da Bonaccini a Toti perché non lasciano il governo prigioniero delle proprie contraddizioni. Di fatto è un aiuto a Conte ma è anche un modo implicito per riconoscere che l'esecutivo si è infilato in un vicolo cecolo fatto di errori e ritardi. L'idea di proporre un tavolo all'opposizione già fumosa nei contorni è arrivata fuori tempo massimo. Qualche settimana fa avrebbe creato problemi a Salvini e Giorgio Meloni. Ora lo stesso Berlusconi evita l'abbraccio un po' goffo del Premier. Forse era opportuno creare già in primavera dopo la prima ondata un organismo parlamentare per coordinare e controllare le iniziative anti-Covid. Le Camere avrebbero avuto un riconoscimento, le opposizioni non si sarebbero potute sottrarre e il governo sarebbe stato sottoposto a un controllo istituzionale. Si è imboccata un'altra strada e oggi non ci sono facili vie di uscita. L'astenzione delle destre sulle comunicazioni del governo non lascia presagire svolte radicali. D'altra parte lo scenario dell'unità nazionale resta remoto. Presuppone, a differenza di quello che dice Monti, un diverso quadro politico e un negoziato a tutto campo a cui non potrebbe essere estraneo il Presidente della Repubblica, sia pure nelle donne e forme costituzionali. Si dovrebbe immaginare quantomeno una trattativa estesa alle risorse del Recovery Fund e l'opposizione chiederebbe, come ha già fatto, l'impegno per le elezioni nel 2021, prima del semestre bianco, con una legge elettorale che è ancora da scrivere. Al momento il massimo di concordia è quella favorita dagli appelli al buonsenso del Capo dello Stato. Potrebbe non bastare se la crisi sociale e sanitaria si aggravasse nelle prossime settimane. Così la mette Folli, ma anche sulla Repubblica, un po' a specchio con quello che scrive al Corriere della Sera, c'è chi si occupa del rapporto tra il Governo e le Regioni. Ed è Claudio Tito che firma un articolo intitolato Il balletto delle responsabilità e che tra l'altro dice che la procedura che oggi il Governo adotterà per varare i provvedimenti più severi denuncia una carenza, una insufficienza di guida. Il Presidente del Consiglio, contrario fin dall'inizio a disposizioni meno indulgenti rispetto a quelle in vigore, assumerà delle linee guida comunque non particolarmente rigide e scaricherà sui numeri degli scienziati, questo è sicuramente un aspetto positivo dopo il rigurcito negazionista di cui anche le forze di minoranza si sono fatte portavoce, e sul Ministro della Salute Roberto Speranza il peso delle scelte più gravose per i cittadini. Se domani alcune Regioni infatti dovranno far fronte ad un nuovo lockdown, la responsabilità o la colpa ricadrà esclusivamente sul titolare Speranza avrà il compito solitario di stabilire se la Lombardia o il Piemonte o la Calabria dovranno chiudere o meno. Un lavoro ingrato, si tratta per il capo di governo di un grande trasferimento di autorità ma anche di una rinuncia all'esercizio della leadership. Il ruolo del Ministro senza dubbio crescerà, ma è fisiologico o stiamo assistendo ad una distorsione dei rapporti politici dentro l'esecutivo? Nella scorsa primavera Conte indubbiamente ha visto crescere il suo consenso nell'opinione pubblica. È accaduto perché dinanzi ad un'emergenza si è esposto in prima persona, come si dice ci ha messo la faccia, ha esercitato la sua leadership e gli italiani hanno risposto positivamente. Adesso la rincorsa al gradimento ha subito una specie di mutazione genetica, ha miscelato l'interesse generale con quello personale. La popolarità in questo modo diventa fine a se stessa, ma soprattutto si basa su un calcolo errato. I cittadini spaventati e impoveriti da questa crisi chiedono in primo luogo certezze dai propri governanti, non accettano indecisioni perché amplificano il loro smarrimento, reclamano un leader che dia sicurezza, che si assuma la responsabilità delle scelte, anche di quelle più impopolari, perché capiscono che anche la politica sale sulla loro stessa barca. Del resto è quel che hanno fatto, e qui vedete che ritorna il tema anche alla Merkel in Germania ed Emmanuel Macron in Francia. Non si sono nascosti. Ci aspettano quattro lunghi mesi invernali e la luce in fondo al tunnel è lontana, ha spiegato la cancelliera senza omettere nulla, compresa la circostanza che durante le vacanze natalizie non si potranno organizzare grandi festeggiamenti. La mia responsabilità, ha detto il presidente francese, è proteggere tutti i miei concittadini al di là delle decisioni da prendere. La politica, dunque, conclude Tito, è fatta di scelte e i voti che si prendono nel Paese, nelle regioni e in Parlamento non servono per fare qualche passerella, ma per onorare l'impegno delle decisioni. E insomma, vedete, prosegue da parte dei principali giornali, ma sostanzialmente una critica forte nei confronti del Premier. E qui, se volete, abbiamo anche la posizione del messaggero, anch'esso con i suoi giornalisti molto critico nei confronti di Conte e del Governo, ma anche diciamo la realtà delle opposizioni, insomma, del sistema Italia. E qui è Ricolfi che a pagina 15 del messaggero, inizia in prima pagina, ma insomma conclude il suo articolo intitolato Le misure tardive che allungano i tempi di ripresa. E dice, tra l'altro, Ricolfi. Dunque si va verso un lockdown più o meno generalizzato, ma certamente molto più lungo di quello che avremmo avuto se fossimo intervenuti. Non dico quando lo dicevano gli studiosi indipendenti, ma almeno quando a metà ottobre qualcosa aveva improvvisamente messo la politica davanti alla realtà. E dire che se fossimo intervenuti allora la curva in questi giorni darebbe i primi segnali di rallentamento e noi saremmo tutti meno angosciati. Resta la domanda, perché la politica ci è ricascata come a febbraio? E dice Ricolfi, io penso che la ragione ultima sia nella capacità peculiarmente umana, ma iper sviluppata fra i politici, di usare l'autoinganno per ricavare sicurezza, conforto, autostima, gratificazione. Nel caso della gestione del Covid, il meccanismo di autorassicurazione e tecnicamente riduzione della dissonanza cognitiva è scattato con una potenza senza precedenti, aiutato dalla scomparsa sulla scena pubblica di ogni distinzione fra mere opinioni e conoscenze scientifiche fondate sulla ricerca. Nella babbele di voci dissonanti che descrivono il corso dell'epidemia in modi opposti e inconciliabili, è stato un gioco da ragazzi per i nostri governanti selezionare le interpretazioni più autorassicuranti. Il virus è clinicamente morto, siamo diventati molto più bravi a curare i malati, i morti sono pochissimi, la nostra situazione è migliore di quella di tanti altri paesi, siamo un modello per il mondo, la nostra gestione dell'epidemia entrerà nei libri di storia. Sì, ho sentito anche questa scrivere Ricolfi, è finita soprattutto in qualche libro che è sparito però al contempo. Va bene, è accaduto così che non capissero che l'epidemia si era risvegliata già a metà giugno, che ignorassero i successi delle democrazie asatiche e dell'emisfera australe, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, che non si rendessero conto che Francia, Spagna e Regno Unito erano semplicemente qualche settimana avanti a noi nella ripresa dell'epidemia, verosimilmente perché le loro scuole sono state riaperte un mese prima delle nostre. È il guaio, conclude Ricolfi, dell'autoinganno in politica, finché si limita a farti raccontare delle favole, poco male, ma se ti induce a prendere decisioni sbagliate, alla fine può ritorcersi contro di te. Concludiamo la parte dei commenti con Ricolfi. Segnalo ancora sulla stampa, invece, per quanto riguarda alcune questioni specifiche, sulla stampa a pagina 23 Elsa Fornero, che firma il suo articolo che si intitola «Se il rilancio non ha un piano» e dice «Tra l'altro, ed è la verità che occorrerebbe anzitutto dire con chiarezza ai cittadini, la gestione della prima emergenza la dobbiamo in gran parte all'Europa che, sospendendo il patto di stabilità e dandoci possibilità di emettere debito a tassi molto bassi o addirittura negativi, ci ha permesso di tamponare le conseguenze più devastanti del lockdown su famiglie e imprese. Mentre ci affannavamo a cercare tamponi sanitari, l'Europa ci ha offerto un grande tampone finanziario. Non è poco, forse un briciolo di ravvedimento da parte di chi voleva portarci fuori dall'Europa non sarebbe male. Fornirebbe un tassello per ricostruire un po' di fiducia. Anche perché la Commissione europea un'idea di direzione ce l'ha, l'ha dimostrata nel Next Generation EU, 750 miliardi che l'Europa prenderà a prestito e che trasferirà a fondo perduto come credito ai singoli paesi, 209 dei quali all'Italia. Veramente non è tutto a fondo perduto perché una parte sono, come sappiamo, in prestiti, anche se a tassi molto bassi. Non già per sostenere ogni tipo di spesa corrente, ma per investire in attività e beni durevoli che rafforzino l'economia, rendano più coeso il sistema sociale, più inclusivo welfare, più verde il modo di produrre, più resistente il territorio. Per il nostro Paese si tratta di affrontare problemi antichi che il virus ha aggravato ma non creato, far tornare la nostra produttività, almeno a livello medio europeo, adottare la digitalizzazione per governare e non subire gli effetti della rivoluzione tecnologica, combattere gli abbandoni scolastici, aumentare la qualità dell'istituzione e il numero dei laureati, investire nella formazione professionale e nell'apprendimento in ogni fase della vita, valorizzare la ricerca a cui destiniamo metà delle risorse della Francia e della Germania. Su tutto poi vi sono gli investimenti in sanità, secondo un piano in cui il MES avrebbe già potuto fornire le risorse finanziarie, ma che non è stato preparato nell'emore di una discussione surreale su questa fonte di finanziamento. Delle ingenti risorse che l'Europa metterà a disposizione, gli italiani sono stati informati e con grande enfasi che arriveranno già nella prima parte del prossimo anno, ma non sanno come saranno spesi, per chi e in quali tempi. Non hanno un'idea dei progetti né delle priorità. È in questo grande vuoto di programmazione, di ricerca e di buon punto di equilibrio tra i bisogni immediati e i programmi che si alimentano al mancontento generale, che neppure i ristori riescano a placare. E ciò che il governo dovrebbe invece fare è coinvolgendo anche l'opposizione e lasciando che eventualmente essa si isoli da sola, così sulla stampa. La Fornero chiudo con un tema che è quello dei rapporti di nuovo tra il governo e le regioni, ma in questo caso focalizzandosi sulle responsabilità delle regioni è nato e urbinati sulla prima pagina del domani che tra l'altro scrive nel corso di questi mesi abbiamo constatato quanto grande sia il potere delle regioni. E che cosa ne è derivato? I presidenti delle regioni, dopo aver criticato il governo centrale perché non li aveva coinvolti nella decisione di chiudere tutto, si sono in queste ultime settimane come accerchiati, usando il loro protagonismo per chiedere l'intervento del governo centrale. In un paese uno e multiplo, nessuno sembra ora volere una corresponsabilizzazione. La responsabilità è ambita, par di capire, quando associata a decisioni che fanno buona pubblicità a chi le prende, tagliare i nastri, aprire i commerci, alleggerire i divieti. Tutto ciò piace molto. Decidere di chiudere, reprimere, togliere spazio, questa è una di quelle responsabilità che i presidenti di regione hanno mostrato di non gradire e dopo aver gridato all'esproprio delle loro colegative sembrano voler lasciare volentieri l'onere dei divieti a Palazzo Chigi. In questa crisi che richiederebbe solidarietà nazionale a partire dai territori, le regioni hanno dimostrato di essere parte del problema anche a causa di quel coacervo di poteri concorrenti e mai definiti messo in piedi dal titolo quinto. Mai definiti, qualcuno ha tentato di definirli, io non mi ricordo come era schierata a Nati Orbinati sulla riforma costituzionale del 2016, ma è inutile che perdiamo tempo in questo. Bene, abbiamo visto il quadro, c'è da segnalare per quanto riguarda le opposizioni che la stampa, per esempio, ci dice Salvini e Meloni si piegano a Berlusconi, il centrodestra alla fine sceglie l'astenzione sulla risoluzione del governo e se volete anche il giornale, che è il giornale tra i più vicini alla destra, ci dice a pagina 4, la mette così, l'alternativa c'è, il centrodestra prepara il contropiano sul Covid e chi è in regola sta aperto alla rivoluzione. La risoluzione presentata ieri in Parlamento prevede i tamponi a domicilio di vieto di attacco alle navi ONG e per le PMI rimborso del 75% dei ricavi. Questo su Libero, mi pare sì che anche il domani a pagina 4 si occupa delle opposizioni. Emiliano Fittipaldi, stadi aperti, basta mascherine, la destra non può dare lezioni, collega e fratelli d'Italia sarebbe stata una strage. Salvini e Meloni oggi attaccano il governo sulla gestione della seconda ondata del virus, ma per mesi hanno appoggiato i negazionisti, boicottato il tracciamento e criticato gli scienziati. E così anche l'opposizione è servita sul domani. Spostiamoci adesso semplicemente su un capitolo e quello riguarda in tutto questo bailame anche quali sono poi i provvedimenti che il governo prende sul piano economico perché ovviamente questa seconda ondata sta facendo rivedere un po' i conti in ogni parte per quanto riguarda la manovra e la Repubblica a pagina 11 la mette così più aiuti alle zone rosse dal governo 1,5 miliardi a partite IVA e artigiani. Se volete il giornale a pagina 10 invece la mette così a proposito del MES con Gian Maria Di Francesco MES sempre più vicino non c'è alternativa per il decreto Ristori Bis. Il disgero a maggioranza opposizione rende più facile finanziare aiuti con il salva stati. Poi c'è un problema legato al reddito di cittadinanza perché si porta avanti ma il reddito di cittadinanza non è gratis come noto e ce lo dice a pagina 20 il messaggero che titola così il reddito di cittadinanza corre verso i 10 miliardi di spesa. Con un nuovo lockdown la platea dei beneficiari potrebbe aumentare fino a 1,8 milioni di famiglie. Intanto nella maggioranza cresce la pressione per un nuovo deficit da destinare ai Ristori alle aziende. Questo a proposito della manovra. C'è da segnalare ancora l'avvenire a pagina 4 che la mette così in vista del nuovo scostamento su il deficit e spiraglio per il MES. Quindi come vedete le voci su un possibile ripensamento sul MES ci sono e poi come vi ho detto il sole 24 ore in prima pagina ma poi prosegue nella terza con Gianni Trovati. Lo sblocco a debiti della PIA ha fatto flop. Il governo voleva cancellare il 70% delle fatture arretrate ma non è andato oltre il 10%. Su 12 miliardi stanziati gli enti debitori hanno chiesto poco più di 2 miliardi. Bene, possiamo chiudere anche il capitolo manovra. Segnalo che tra i tanti problemi c'è anche quello della cassa integrazione e allora Repubblica, pagina 29, ci dice che all'Inps ferme 270.000 domande in attesa della cassa integrazione. Secondo l'Istituto però sono solo 17.000 lavoratori che non hanno ricevuto nulla alla faccia. Comunque fossero pure 17.000. Valentina Conte sul Repubblica. Capitolo giustizia. Segnalo quello che vi dicevo all'inizio e cioè che a pagina 18 del giornale c'è una presa di posizione del procuratore generale della Cassazione che dice arrestate soltanto se necessario. Per il procuratore generale della Cassazione le carceri sono una parateria per i contagiati da Covid. Evitare. Insomma questo ci dice il giornale ma a proposito di giustizia, di carcerazioni eccetera eccetera il riformista a pagina 6 ci dice che il decreto legge anti scarcerazione di buona fede domani il giudizio alla consulta secondo magistrati e tribunali il provvedimento voluto dal guardasigili lederebbe la loro autonomia e il diritto alla salute e alla difesa dei detenuti. Questo è riferito al vecchio decreto legge non a quello che starà dentro il decreto ristori. Per quanto riguarda ancora la giustizia voglio segnalarvi la prima pagina del riformista, Palamara, Gate, Buzzi, Accusa, Procura, Corriere e Repubblica hanno inquinato ed è su questo se volete Paolo Comi che poi prosegue nella pagina 6 del riformista scusate ci arriviamo eccolo qua che dice ha fatto un esposto alla procura di Perugia il libro di Bonini ha rivelato le indagini su Suburra come con un anno d'anticipo idem per il rasse delle nomine Repubblica e Corriere hanno violato il segreto. Questo è Salvatore Buzzi che vedremo che cosa come che seguito avrà questa sua iniziativa giudiziaria. Vorrei segnalarvi che io l'ho visto forse sono andato veloce ma solo sul Corriere della Sera a pagina 20 e oggi ne parleremo amici miei perché tenterò di scrivere una cosa se avremo il tempo con i lavori parlamentari perché a pagina 20 del Corriere della Sera in un trafiletto in basso a destra abbiamo questo titolo Serra illegittimo il sequestro del pc non c'era il reato open motivazioni della Cassazione ora tutti voi ricorderete lo spazio i titoli il casino che fu montato su questa storia del famoso sequestro dei computer la mattina di gente che aveva legalmente finanziato una fondazione e via dicendo bene sono uscite le motivazioni della Cassazione che ha annullato il provvedimento della procura di Firenze e sono 40 righe Antonella Mollica ma almeno merito al Corriere della Sera che queste 40 righe le ha messe voi dite perché la notizia è arrivata ieri sera benissimo allora vedremo domani qua sarà lo spazio che sarà dato sui giornali voi naturalmente come sapete io non leggo il fatto quotidiano ma immagino che ci sarà oggi la prima pagina di travaglio su questo argomento vedremo vedremo ci sarà da divertirsi anzi purtroppo non c'è da divertirsi perché questo è un sistema giustizia che fa piangere però questo è quello che abbiamo di fronte benissimo di proietti vi ho detto in particolare il tempo il messaggero che sono i due giornali romani danno grande spazio alla morte di gg proietti che vi abbiamo già annunciato ieri mattina in apertura di rassegna stampa ma ieri è morto anche padre sorge e l'avvenire a pagina 18 lo ricorda sorge vita tra vangelo e politica è morto il gesuita che fu protagonista della primavera di palermo e voce ascoltata nell'impegno civile fedele al vaticano secondo fu amico di paolo sesto sono grato di aver potuto celebrare la messa ogni giorno questa è bartolomeo sorge padre bartolomeo sorge che è scomparso anch'esso ieri è inutile che vi dica che su tutti i giornali alla vigilia del voto in america ci sono eh pagine e pagine dedicate a questo sia sulla repubblica sia eh sul Corriere della Sera sia sulla stampa ehm potrete sicuramente vederle tra l'altro questa notte eh inizieranno tutte le maratone di tutti i giornali di tutti e di tutte le televisioni domani non so se i giornali a meno che se 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 il risultato sarà combattuto temo che i giornali daranno solo delle possibili orientamenti se invece darà qualcosa di certo è possibile che rifaranno la battitura delle prime pagine però sicuramente domani mattina eh magari un po' insonoliti saremo in grado di darvi qualche informazione aggiuntiva su quello che è l'esito di queste importanti elezioni negli Stati Uniti per ora è tutto vi saluto e se volete ci sentiamo domani mattina per la rassegna stampa buona giornata a tutti